Recuperati dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, quasi 14 milioni di euro sottratti al fisco da una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari e con sede legale dichiarata nella città di Sulmona. Gli amministratori protempole della società sono stati denunciati, l'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale tributaria, omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA e occultamento di documentazione fiscale. Le fiamme gialle a seguito di un'articolata e complessa verifica fiscale hanno accertato che la società, il vasore totale dal 2008 al 2012, aveva in realtà operato e effettuato operazioni commerciali concessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo ricavi per oltre 13 milioni e mezzo di euro completamente non dichiarati e occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanziari sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione, delle cessazioni di beni e prestazioni di servizi eseguite sul territorio provinciale, regionale e nazionale, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per 13 milioni 622 mila 409 euro, un'imposta IVA a 6 fini Ires per oltre 3 milioni 746 mila 162,48 centesimi di euro, un'IVA dovuta per 2 milioni 271 mila 391 euro, a un'imposta IRAP per 650 mila 595 euro. La Procura della Repubblica di Sulmona ha così richiesto al GIP del locale tribunale la misura cautelare reale sia per gli immobili di proprietà degli amministratori protempore, nonché sulle disponibilità rinvenute nei conti correnti, bancari e postali, per potersi rivalere per l'evasione costatata. In esecuzione del decreto di sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro emesso dal GIP del tribunale di Sulmona Paola Petti, su richiesta del PM Stefano Iafolla e i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 5 unità immobiliari di cui 4 apprezza e 1 a Raiano, oltre a conti correnti bancari, libretti di deposito postali, carte di credito prepagate a fine di recuperare l'imposta IVA e non versata al fisco.